Non vedi l'ora di partire? A quanto pare non sei il solo. Beh, in fondo è la sua prima vacanza. La grande metropoli! Che emozione! Oh, questo deve essere Mysticus. Ben arrivato! Eh, pensavo che andaste via solo per un giorno. Sì, infatti è così, ma bisogna essere pronti per qualunque cosa. Ciao, Mysticus! Eccoci! Manni è molto emozionato. Mi spiace, ma non è prudente portare anche lui. Oh, povero Manni! Non vedevo l'ora di fare questa gita. Sono mortificato, sai, ma è meglio che tu rimanga qui. Magari può farti compagni adotti. Mi dispiace, ma lo zio Mishmosh e io saremo fuori città. Partiamo anche noi. C'è la fiera di fantascienza. È da un anno che lo zietto l'aspetta. Non posso lasciare Manni tutto solo. Guardatelo. Sei sicuro, Manni? Mi mancherai, amico mio. Ma è solo per un giorno. Ti prometto che ti porterò un regalino. Non riesco a usare la mia pala. A terra, è troppo dura. Sono stufo. Prima non riesco a far crescere niente. E adesso ho addirittura rotto la mia pala preferita. Cos'è quello? La mia vecchia serra? Certo. Hai ragione, mio piccolo squirmi. Tu sei un vermetto geniale. È giunto il momento di andare a fare un bel viaggetto. Mi dispiace, mio piccolo dolce squirmolino. Ma non è un viaggio sicuro per un vermetto. Se dovesse vederti qualche brutto uccellaccio potrebbe buttarsi su di te per fapparvi in un banderdogio. Lo starò via molto e ti porterò un regalino. Te lo prometto, mio piccolo squirmolino. E' un vermetto geniale.